Io, io veramente, io non ho parole stasera, io stasera veramente ragazzi non ho parole, non ho parole, cioè quello che ho visto stasera è qualcosa di surreale, l'ultimo gol che abbiamo, l'ultimo gol autogol di Gatti poi ragazzi è qualcosa che penso che neanche nei campionati amatoriali si possa vedere, io non so stasera che cazzo è successa la squadra ma veramente una squadra proprio annebbiata perché in quel momento lì quando sei sul 3-1 che fai quel passaggio lì e facciamo il 4-2 l'autogol di Gatti è proprio una cosa che non sai neanche dove cazzo ti trovi in campo, cioè tu non sai neanche dove sei in quel momento, dove sei? Sassuolo 4, Juventus 2 ragazzi, su 4 gol del Sassuolo penso che 3 sono regalati, 3 sono regalati, poi vai, gol di Berardi per carità, bello, anche se comunque arriva sempre una palla persa di Gatti, era un passaggio sbagliato di Gatti, poi arriva il gol di Berardi, però bello, quello è bello, lì Shesny non poteva farci nulla ragazzi Shesny fa i miracoli nelle cose più difficili e poi si perde nelle cose più banali perché minchia ragazzi la palla di Shesny su tre soldi, sul copo di testa, è un paratone la palla di Shesny su De Frel, dove poi la palla la manda sulla traversa, che poi rimbalza sulla linea, ok graziati dalla linea, dalla traversa, ma lì Shesny quella palla lì la tocca, quindi Shesny fa i miracoli e poi però ragazzi fa delle cagate pazzesche perché il primo gol del Sassuolo, un tiro improvviso di Laurientè, Shesny non so che cazzo doveva fare, pioveva, gli sarà scivolato il pallone, non lo so ragazzi, il fatto sa che quei pugni non riesce a rinviare, questa palla qua gli scivola, va per terra, gli rimbalza anche sul tacco e gol di Laurientè ma è un paperone di Shesny, di quelli pazzeschi veramente, di quelli pazzeschi, poi loro hanno fatto quel copo di testa con 1-3 soldi, un tiro di Berardi centrale però poi alla fine, nel senso, abbiamo costruito tanto noi, perché abbiamo avuto il tiro di Roccatelli da fuori aria, la palla che esce fuori di poco il copo di testa di Vlavic, il copo di testa di Rabiot, il tiro da fuori di Rabiot, l'abbiamo creato tanto ragazzi l'abbiamo creato tanto, poi arriva questo gol sulla fascia sinistra dove c'è questo cross e McKennie disturba Vigna, Vigna per non far sì che McKennie tocca quel pallone e Vigna che ci mette lo zampino e Vigna fa l'autogol e quindi facciamo l'1-1 così, giusto per speranza, perché abbiamo sorgito di aprire questa partita qua sorgita di prenderla, poi ragazzi arriva questo altro gol bello di Berardi per carità però anche qua, palla persa da Gatti, passaggio sbagliato da Gatti, Enric e Matteo Sedi che bravissimo a aprire questo pallone poi a praticamente scartare Chiera, Miretti che va in scivolata, Matteo Sedi che lo salta come niente Matteo Sedi che poi dà il pallone a Berardi, Berardi va in conto a questa palla, tiro a Gioidi Berardi, gol 2-1 Sandimono sotto, Sandimono sotto, nel secondo tempo siamo veramente tanto sbilanciati proviamo a pareggiare, però rischiamo qualcosa poi ovviamente anche in contropiede del Sassuolo perché l'Oriente ha avuto un'occasione blasfema su quel call esterno di Berardi a tu per tu con Cesni, per fortuna l'Oriente si mangia quel gol hanno avuto anche altre occasioni di contropiedi, per fortuna non sfruttate secondo me ragazzi poi c'è un rosso clamoroso non dato a Berardi perché quel fallo lì di Berardi su Bremer per me è rosso clamoroso poi non sto qua ad attaccarmi su episodi brutali perché non mi interessa perché vi hanno fatto cagare questa sera però quello lì per me è rosso, poi sai in 10 contro 11 la partita può cambiare il rosso non gliel'ha dato, gliel'ha dato solamente giallo Berardi lì al limite, abbastanza graziato riusciamo noi in qualche modo a riprendere la partita con Federico Chiesa grandissimo Federico Chiesa che ancora lui ci trascina per quel momento in partita infatti il cross di UEA se non sbaglio, palla che è troppo lunga c'è Fagioli che di prima intenzione riesce a dare la Chiesa Chiesa poi ti ha di prima intenzione col destro c'è anche una delegazione che ingagna Caragno però comunque ragazzi noi la riprendiamo sul 2-2 riusciamo comunque a prenderla sul 2-2 anzi se Federico Chiesa poi col destro anche un tiro cross e Caragno ci ha messo i guantoni Vlaovic che ragazzi si è mangiato un gol davanti alla porta però probabilmente sarebbe stato fuori gioco quindi gliela possiamo perdonare sfortunati anche sul primo tempo che c'è questo fuori gioco di mezza testa e dico mezza testa di Vlaovic perché poi in questa azione qua c'è anche un tocco di mano sul cross di Gatti qualora non fosse stato fuori gioco di Vlaovic per mezza testa ci sarebbe stato rigore per la Juve ma così non è stato perché appunto c'era fuori gioco e poi ragazzi ancora Chiesa sempre sull'ariente un tiro da fuori aria ancora Chiesa fa la parata ma dov'è che fa la parata? con i guantoni invece che mandarla per via laterale ragazzi la manda al centro e al centro chi c'è? c'è Pina Monti che trova il tap in vincente e trova il gol del 3 a 1 cioè del 3 a 2 scusate il 3 a 2 dove praticamente batte Chiesa e anche lì Chiesa lo sai benissimo non si fanno mai quei rimpi cioè quelle pallerie al centro non vanno mai date cioè manda la via lateralmente non al centro non al centro e Chiesa la manda al centro e poi ripeto nella fretta nella fretta di voler pareggiare perché nella fretta di provare a pareggiare noi facciamo un casino noi facciamo un casino ragazzi facciamo un casino della madonna perché praticamente porca puttana cioè Chiesa va a battere lui da calcio d'angolo quasi perché la punizione si trovava da calcio d'angolo cosa fa Chiesa? la dà a Gatti Gatti praticamente non so perché in quel momento boh forse pensava che Chiesa era in porta ma figlio mio ma si è traballuto lui la punizione che era da calcio d'angolo come puoi permettere che poi lui era già in porta? no Gatti ragazzi sul pressing di Enrique la scarica indietro al portiere che non c'è perché in quel momento ragazzi il portiere non c'è perché è Chiesa di battere quella calcio di punizione da calcio d'angolo e Gatti va all'indietro per Chiesa di che non c'è e quindi la palla si leva tranquillamente in porta si leva tranquillamente in porta e c'è l'autogol di Gatti 4-2 oggi Chiesa di Gatti sono stati disastrosi perché ragazzi sulle gol di Venardi c'è il passaggio sbagliato di Gatti c'è un altro gol di Gatti e su tre gol praticamente Chiesa in due fa papere in due fa papere quindi di cosa stiamo parlando? mi rode il culo perdere pariti di questo genere mi rode il culo perdere pariti di questo genere perdere così mi rode il culo perché veramente abbiamo fatto le comiche stasera le comiche veramente il circo in confronto è una barzelletta abbiamo fatto le comiche stasera le comiche io veramente cioè io le ho viste tutte tanto l'hanno già perso però veramente dopo Scesni con Gatti che poi Gatti si fa l'autogol quando Scesni ancora è da calcio d'angolo le ho viste tutte le ho viste tutte 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 queste partite qua contro Sassuolo contro Lecce che sta facendo un campionato della Madonna e la prossima abbiamo Lecce non le devi perdere sono punti questi che non devi perdere perché tu non hai fatto coppe questa settimana non hai fatto un cazzo quest'anno tu non fai coppe sei riposato hai il tempo di preparare le partite come cazzo quando vuoi e intanto però le figure di merda continuano a esserci le figure di merda continuano a esserci coppe o non coppe riposati o non riposati noi le figure di merda continuiamo a farle e questo quest'anno io non l'accetto potevo capirlo gli anni scorsi anche se comunque non era giustificato potevo capire gli anni scorsi perché eri stanco quest'anno che non fai le coppe non accetto queste figure di merda non le accetto non le accetto che figure di merda che circo che pagliacci che siamo stati oggi che pagliacci cazzo ripeto poi poteva starci anche Rossa Berardi per me si ragazzi Rosso c'era magari sta solo in dieci sarebbero in difficoltà e chi lo sa poi il calcio è strano avremmo anche voluto vincere questa partita ma non è una scusa è stato veramente un circo un circo assurdo un circo assurdo stasera ho visto delle cose che non ho mai visto in vita mia veramente il portiere che batte una punizione da calcio d'angolo la dà a Gatti e Gatti la ridà al portiere pensando che il portiere era in porta quando era ancora laggiù in fondo ma se ti ha passato con il pallone dico figlio mio se ti ha passato con il pallone com'è possibile che tu gli faccia il tuo passaggio niente ragazzi vedo che il video può finire qua se vi ci ha dato un bel like commentate e iscrivetevi al canale un abbraccio e niente ragazzi vedete che il video può finire qua veramente sono stanco sono venite saurito bella ragazzi bella è un abbraccio è un abbraccio